Oggi siamo a casa di Antonino Larosa per raccontare una storia che poteva avere un esito più brutto e invece siamo qui a raccontare perché ha dei risvolti positivi. Che cosa è successo Antonino? Niente, è successo che l'altro ieri mattina mia moglie era in cucina, solita fare le faccende e stava facendo i fagioli su una pentola a pressione. Ovviamente lei è convinta che c'è il bottone di sicurezza sfiatando, lei non sfiatava allora era convinta che già la pressione non c'era più, aprendola e forzandola gli è scoppiata tutto in faccia e ti dico in una situazione siamo corsi subito al pronto soccorso di qua di Fano. Allora diciamo subito che la signora sta bene, l'esito non è stato così devastante, avrà bisogno di tempo di cure ma tutto tornerà alla normalità, però noi vogliamo raccontare una bella pagina che hai vissuto di persona. Sì certo, tenevo a ringraziare particolarmente tutti i medici e gli infermieri del Santa Croce del pronto soccorso di Fano perché sono stati fantastici, fantastici delle cure che gli hanno fatto veramente una cosa straordinaria, ho visto delle cose, credetemi, che non vedo si vedono sempre delle cose che sono strane, però ho visto una cosa che è stata stupenda con amore, con grazia, quello che hanno fatto, pulire, lavare quella pelle, mettere le pomate, le bende ma ti dico guarda è stata una cosa fantastica. E quando sei in quei momenti magari uno è preso da tante preoccupazioni, allora vedere qualcuno che scalda un po' il cuore. Sì, ti riscalda il cuore perché vedi è una cosa bella, è una cosa bellissima vedere queste persone che ti aiutano con l'anima e con il cuore, è una cosa stupenda veramente. Quindi insomma vorresti proprio ringraziarli per il sostegno che vi hanno dato. Ma veramente, veramente, li devo ringraziare con tutto il cuore perché sono stati fantastici tutti.